ciao a tutti sono appena entrato perché mi è arrivato un messaggio da lt e ha detto che di decidere se potenziare io potenzio tutto potenziare il il qui il magazzino dove dove fanno la marijuana l'erba ok allora quindi prendiamo queste che cos'è devo andare a prendere io qualcosa ok è cambiato cambiato qualcosa dentro comunque mi piace rmc molto bello molto bello via anche la sicurezza ok adesso devo fare un rifornimento perché stava scarseggiando qualcosa ok ma che acquista rubo rubo le scorte e porto le a un stabile mi piace no Ho imbroccato, imboccato, imbroccato, ho imboccato la via sbagliata, guarda qua, guarda questo. Ero appena uscito dal nightclub, stavo facendo il giro, questa è proprio la mia prima missione, proprio dopo che ho avviato le quattro attività, porca Eva, cosa c'è qua dentro? Nascondiamoci un momento, distruggi le casse, vediamo un secondo che casse sono, c'è anche una guardia in mezzo, ok, facciamo saltare tutto, riesco ad andare in alto, avrei un vantaggio, i morti, qui non c'è, andiamo di qua, niente, mi sa che devo farmela lì, ok, però, potevo prendere la moto, non sapendo, la MK2, dove sono? Ah, queste casse, allora posso usare il fucile a ponta, è questa eh, a cazzo no? Non è questa, pura polizia, a ponta, aspetta un secondo, io è meglio che uso i tasti, eh? Ah, ci sono le guardie giurate dentro, ecce vita i ROSE GA IL è bello è bello per l'eclista Ah! Ah! The officer is injured! I've had it! Time to die! Come, man, some cover! Cover me! Idiot! Come! 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 I need some cover! Who's got eyes? No, I was able to take this. Ok. Come! 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 Maybe... Come! 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 è stato bene mentre all'ulta Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' bello che ti avvisano qua. Ti avvisano quando manca la merce e tu ci vai. Molto, molto fatto bene questa qui dell'MC. Vediamo la viuzza, questa qui. E' questa. Ok. Vi vediamo che c'è dentro. Porco cane, ragazze. Ma che roba. Porca puttana. Guarda, madonna. Non credevo che era così, veramente, giuro. E beh, è anni che c'è. Ok. Ok. Allora, il video adesso lo concludo qui. E continuo a fare le cose che devo fare in giro. E man mano usciranno altri video del genere. Ok. Ciao a tutti. E grazie per la visione che chi lo vede.